Monci, guarda che è stata la granata? Ma ragazzi, io sono stato di lì Oh, sono stato di lì, ho sentito l'arriata E guarda, che quel pezzo lì, l'ho visto, mi è passato a metro Questi qui, guarda Venga a fare un video, ragazzi Ragazzi, questi pezzi di qui, ero, ero, ero Ero di qui, ero di qui Ho sentito questa affa che mi è volata a metro Ma ragazzi, trovamone un altro Anzi, anche più grosso Ma che moncione? No, a bene Tocca a sfogliare